Anche quest'anno nel cuore dell'estate la famiglia del Cenacolo Maria Stella dell'Evangelizzazione vivrà un'esperienza del tutto particolare quali sono gli esercizi spirituali. Esercizi spirituali che vedranno la presenza del Vescovo Monsignor Giuseppe Zenti che predicherà questo corso intenso di spiritualità, gli esercizi spirituali per l'appunto. Esercizi che inizieranno domenica sera a partire dalle ore 21 con la meditazione introduttiva e poi si svilupperanno per tutta la settimana fino al pranzo di venerdì 26 luglio. Saranno dieci le meditazioni che il nostro Vescovo ci proporrà a partire dal tema fedeli al carisma delle origini al passo con i tempi di Dio. Sarà un salire sul monte, un essere più vicini al Signore per questa settimana di spiritualità, una settimana che certamente è rivolta principalmente a quanti fanno parte del Cenacolo ma è rivolta, aperta anche a tutti coloro che in questo tempo, 21-26 luglio vogliono dedicarsi un po' di tempo per la preghiera, per l'ascolto, per la meditazione, per stare insieme con il Signore.